Allora parleremo del cocktail più amato dai partenoperi e non soltanto perché... Più amato dagli italiani che è diventato un vero e proprio status symbol. Giuseppe preparerà degli spritz molto particolari. Con la però questa è la ricetta che ci dà poi l'Iba perché dal 2011 fa parte anche dei cocktail internazionali, lo spritz quindi... In una vera e propria rivoluzione direi da questo punto di vista perché pensiamo che questo cocktail nasce in Veneto. Quindi Nord Italia era un format del Nord Italia, oggi lo è diventato anche per noi che ci siamo aperti come capitale europea anche da questo punto di vista perché a volte le due cose, insomma la gastronomia, quello che noi beviamo eccetera va di pari passo con la cultura di una città. Senza dimenticare il fatto che è buonissimo quindi quando si inizia a bere spritz si continua con lo spritz. Io direi Davide andiamoci a fare uno spritz adesso dopo la pubblicità perché è orario. Grazie a tutti.